American Express è una società diciamo globale di servizi di pagamento, in Italia è nel mondo presente da 165 anni con tre linee di business focalizzati su tre comparti specifici, una divisione consumer che ovviamente si occupa del moduli privati, una divisione che ha focus sulla parte degli esercenti quindi di assicurare l'accettazione delle carte per i propri clienti e una divisione quella che appunto appartengo io e di cui oggi discuteremo un po' è relativa agli rapporti con piccole imprese, liberi professionisti fino alle grandi corporation. Amex da subito si è attivata nel segmento business per come dire valorizzare il suo network che è fatto attraverso il modello di business esclusivo che è un modello circolare dove ci sono i titolari quindi le società titolari di carta e gli esercenti commerciali, entrambi clienti di American Express questo è un modello devo dire piuttosto esclusivo. Noi riteniamo che abbiamo attraverso i nostri prodotti la possibilità di supportare come per fare citare alcuni esempi le carte American Express che possono essere fisiche virtuali quindi dare un contesto di riferimento un po' totale hanno la possibilità di diluire i pagamenti dei propri clienti fino a due mesi aggiuntivi rispetto diciamo alle modalità di pagamento concordate con il proprio fornitore quindi questo diciamo dalla possibilità di aumentare la disponibilità di cassa che è un aspetto importante fornisce un pacchetto di carte che vanno dalla base alle supplementari che consentono alla società e ai propri collaboratori di poterle utilizzare sia per pagare le proprie trasferte ma allo stesso tempo per poter pagare appunto proprio i fornitori